Diviene definitiva la sentenza di condanna e la Regione Puglia risarcisce i 5 salentini colpiti da patologie tumorali e costretti ad effettuare al loro speso un esame con la PET-TAC presso lo studio calabrese di Cavallino, nel periodo tra gennaio e marzo del 2011, quando la ASL di Lecce ne era sprovvista. Intanto si moltiplicano davanti al giudice di pace di Lecce cause di questo tipo, altre 8 sono state avviate per un totale di una quarantina di pazienti, promosse dall'avvocato Massimo Todisco che ha ottenuto la prima vittoria davanti al giudice Luigi Piro. Una sentenza, quella emessa da Piro nel marzo scorso, che la Regione ha impugnato ma ha deciso di rinunciare all'appello dopo la costituzione in giudizio dei pazienti che avevano vinto in primo grado. Tre giorni fa è passata in giudicato, divenendo un precedente giurisprudenziale. Nella sua sentenza il dottore Piro aveva accolto la richiesta dei pazienti sposando una tesi innovativa, e cioè sostenendo che l'assenza della predetta macchina in convenzione costituisce un fatto illecito, che lede immediatamente il diritto alla salute dei soggetti che si trovano nella necessità di dovervi ricorrere. In due dei nuovi processi già in corso, nei giorni scorsi è stata raccolta la testimonianza di importanti oncologi, come il dottor Giuseppe Serravezza, che ha confermato come la PET-TAC sia uno strumento fondamentale nel trattamento e nella diagnosi dei tumori nelle strutture ospedaliere. La macchina della giustizia si è messa in moto e, c'era da aspettarselo, sta già producendo i suoi frutti.